ecco l'apertura bellissima parte con il destro baş! signori costas! Banoas! Costas! Banoas! Costas! Banoas! Costas! Banoas! Costas! Banoas! Scusate, ma chi è assoluta? Banoas! Rivediamo, in coppa testa vincente, il terzo gol in campionato dopo quelli con il tocco di testa in anticipo, Zinischi che stiamo a cercare Milik, a cercare Milik che sceglie... Siamo in serio! Cominato, non è cavallo! Generoso Milik, casalino e compagno, riparte nuovamente da Zinischi la storia di Gattuso, quindi Netto, si seguiva per uno contro uno, Nertens, Nertens... Milik! Goal! 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 Tino Renzo! 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 Nella parte tutto da Pelotti per la riparcanza del Torino Ilso, ultima possibilità centra di giro inizia qui Grazie